ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video cosa andiamo a vedere oggi un altro prodotto l'opiparo quindi quel negozio di torino che di cui ho già parlato che mi fornisce alcune queste attrezzature tra cui questi scarponi vi lascio tutte le indicazioni nei commenti per poter per poter contattare il negozio e quant'altro comunque tra l'altro lo aggiungo negozio fornitore ufficiale crispy ma tornando agli scarponi cosa andiamo a vedere oggi intanto questi scarponi sono i black hunter gtx che tiro subito fuori e devo dire che sono degli scarponi veramente veramente ottimi sono stupendi sono fanno parte della categoria militari della della crispy quindi denota comunque uno studio e una progettazione dello scarpone già per un uso molto più intensivo rispetto al normale non alle classiche passeggiate dando due specifiche tecniche abbiamo lato mai in pelle fiore idro repellente fodera completamente in goretex un sottopiede a struttura differenziata per ridurre al massimo gli impatti la soletta il sottopiede scusate non la soletta il sottopiede che è un prodotto particolare della della crispy che impedisce la sudorazione impedisce scusate favorisce la reazione riduce molto la sudorazione e soprattutto anche la formazione di cattivi odori quindi una soletta removibile chiaramente sostituibile anche lavabile in alcuni casi quindi diciamo che anche la parte interna è ben ben studiata e soprattutto in ultimo la suola in vibram la suola in vibram non ha bisogno di presentazioni perché sappiamo già la qualità del materiale vibram e soprattutto un disegno per favorire il grip cos'hanno di particolare beh chiaramente sono crispy quindi hanno già solo il nome denota qualità e professionalità nel produrre e progettare scarponi sono uno scarpone questo in particolare uno scarpone di un certo livello infatti ha tantissime protezioni è completamente idrorepellente e soprattutto al collo molto molto alto che per utilizzi in ambito outdoor per dare un esempio i fiumi ciottolati quant'altro la protezione della caviglia alle distorsioni devo dire che molto molto importante li ho provati e vi assicuro che sono delle pantofole sono veramente comodi internamente non tagliano non segnano quindi possono essere usati anche per svariate ore senza andare a affaticare troppo il piede perché sono veramente veramente comodi straconsigliate basta che dire sono sono i crispy questo prodotto qua a me piace particolarmente l'ho provato in qualche occasione devo dire che sono molto molto comodi chiaro questo prodotto nuovo sarebbero anche un po più sporchi però sono molto comodi molto resistenti e danno comunque solidità alla caviglia che è la cosa che a me piace molto soprattutto chiaramente in ambito soft air dove si gira molto anche all'interno dei boschi quindi gli scarponi sono questi sono molto validi la crispy è comunque una marca ottima ci sono tantissimi altri prodotti crispy chiaramente ognuno poi andrà a scegliere quale più preferisce però devo dire che già questi sono un ottima compromesso per per l'outdoor comunque bene ragazzi il video finisce qua perché comunque è un prodotto già straconosciuto ma volevo dare solo due specifiche tecniche ci saranno tanti altri video seguiteli e per qualunque commento fatelo se avete domande dite pure e basta un like ben accetto grazie e alla prossima